È una giornata importante perché diamo un segnale importante lungo il tratto marchigiano con l'immissione di un nuovo treno e mi pare che c'è la necessità di rinnovare tutti i convogli anche per andare nella direzione della sicurezza dei passeggeri e dei cittadini. Siamo sulla buona strada e quindi oggi è un giorno importante. È stata sempre la mobilità sul ferro molto conveniente, non ci abbiamo sempre creduto, ovviamente la situazione marchigiana è un po' una situazione a macchina di Leopardo, in alcune linee ci sono difficoltà ma non dipendono da noi, sulle tratte regionali c'è stato un grande rinnovo del parco mezzi e ci sta anche una serietà e un impegno da parte di Trenitalia e delle ferrovie per la puntualità degli orari. Quindi c'è un buon rapporto di collaborazione, questo rapporto di collaborazione vogliamo continuare che rimanga anche nei prossimi anni perché siamo sulla buona strada e poi se si lavora insieme, se si collabora i risultati vengono e questo è un esempio.